Giocatore con la lettera C Ken Navarro Squadra che milita nel campionato ucraino Shakhtar Donetsk Minchio, a sinistra degli sveglioni Oh, ha tirato bene come me Squadra che ha vinto l'ultima Europa League Eh, Dexter la sa No ma, purtroppo Roma, ecco, tira Non è la Roma Dexter la sa, secondo me Siviglia Siviglia Può tira lui? No, devi tira tu Oh Chi ha segnato il rigore decisivo per l'Argentina nel 2022? Montyar Oh Squadra con la N Nanz Sì